Radio Roma Capitale TV, eccoci qui a via Fondi di Monastero, siamo tornati a distanza di tempo, continuano le tante segnalazioni e come vedete alle mie spalle i rifiuti non mancano, materassi e soprattutto è stato istituito, questa forse è la novità, è stato istituito un divieto di transito, vedete quella rete arancione giù in fondo, per impedire alle auto di passare. In realtà vi posso assicurare che continua un discreto via vai di macchine, anche mentre parliamo le sentirete passare, quindi evidentemente questa strada comunque utile ai residenti di Casal Monastero o Centrale del Latte, ma insomma non solo per abbreviare il percorso, sta di fatto che però c'è un divieto di transito che al momento non viene rispettato, chissà forse si pensa che con il divieto di transito si può magari cercare di impedire di buttare rifiuti, così non sembrerebbe. E vedete stiamo camminando lungo la strada, ecco adesso metterò la telecamera così, c'è tanta tanta immondizia come spesso abbiamo raccontato grazie alle vostre segnalazioni, siamo tornati oggi qui a raccontarlo e effettivamente c'è di tutto perché troviamo pneumatici, vetro, lattine, carta, umido, mobili, calcinacci, vernici, c'è come al solito davvero l'imbarazzo della scelta e cominciamo, cominciamo. Radio Roma Capitale TV, adesso eccola qui, guardate quante vernici qui alle mie spalle, ci sono barattoli abbandonati, alcuni ancora pieni, altri vuoti, fa di fatto che guardate quanta vernici ci sono abbandonate. E poi continuiamo questa nostra carrellata, ovviamente c'è di tutto qui purtroppo abbandonato, troviamo anche sacchetti con umido, eccola qui, poi c'è veramente di tutto tra le altre cose, anche molti scarti di cibo purtroppo, quindi la situazione è chiaro che poi vada a tirare anche gli animali e poi qui eccolo l'immancabile, purtroppo divano, eccolo qui, c'è un divano sventrato, però di fatto eccolo qui, c'è un divano e poi, e poi continuiamo perché c'è un altro materasso, eccolo qui, dall'altra parte della via, eccola qua, guardate che distesa di rifiuti che c'è, tra le altre cose vedete qui ci sono anche degli pneumatici, eccolo qua, vediamo, vestiti, tantissimi vestiti, eccoli qui, guardate quanti sono, vestiti abbandonati, e poi continuiamo, continuiamo a camminare lungo via, fondi di monastero l'avevamo già visitato, era richiesta una bonifica, però a quanto pare si fa purtroppo in molti casi prima a rimettere rifiuti che non si fa in tempo nemmeno a bonificarlo, sapevamo che l'intervento era stato fatto in realtà, ed eccolo qui, guardate, altri pneumatici, diversi pneumatici abbandonati, anche questi sappiamo fortemente inquinanti, ecco qui, sta sopraggiungendo addirittura un camioncino, quindi per non farlo finire nell'inquadratura mi rimetto in primo piano, ma questo non impedisce tanta e tanta immondizia, eccola qua, guardate, materiale anche qui, c'è di isolante, anche questo, certo, non andrebbe certo smaltito qui lungo il ciglio di una strada, e poi ancora, eccola qua, intanto passa addirittura un camion è passato, c'è il divieto di transito, non lo dimentichiamo, lo teniamole a mente queste cose, qui è un via vai continuo però, con tutto il divieto di transito, ed ecco qui continuiamo, altra distesa di immondizia, mentre cammino ce la siamo fatta tutta a piedi e avete visto una distesa di rifiuti interminabile purtroppo, come l'avevamo lasciata, come l'avevamo lasciata l'abbiamo ritrovata, ecco qui, vedete, questa è anche una panoramica della via, guardate alle mie spalle che cosa c'è, da una parte e dall'altra c'è immondizia, abbandonata così come viene, e qui l'immancabile, ovviamente altri pneumatici, borchie, e poi anche altri cominciano i calcinacci, eccoli qua, vedete, alle mie spalle, eccoli qui, questi sono calcinacci abbandonati, continua poi qui c'è ovviamente di tutto, altri vestiti, anche qui vedete le reti, materassi, mobili, insomma come sempre si trova di tutto, e poi concludiamo questo nostro percorso con gli ennesimi calcinacci, addirittura una montagna di calcinacci che adesso vedrete alle mie spalle, che fra un po' impedirà anche il passaggio delle macchine, non tanto per il divieto di transito, quanto per questa montagna, vedete, eccola qui, i calcinacci, e questa è la carreggiata, passa a malapena una macchina, e quindi situazione da via Fondi di Monastero purtroppo complessa, noi di Radio Roma Capitale continuiamo a seguirla anche su Radio Roma Capitale TV, Jacopo Nassi, Casal Monastero, Radio Roma Capitale TV